Sabato 29, domenica 30 agosto, intorno alle ore 19 a Taranto Talsano in piazza Loiucco, seconda festa dell'USB, noi non dimentichiamo. Un appello a partecipare numerosi, ne parliamo con Amedeo Zaccaria, una partecipazione significativa la sua in memoria di suo figlio, tragicamente scomparso tre anni fa perché certi scempi, certi assassini non abbiano più a verificarsi. Sì, avete detto proprio la parola giusta, assassini. Quello che più colpisce noi è che quando accadono queste tragedie si viene lasciati totalmente soli, sia nell'indifferenza, a meno di non trovare delle persone come è l'organizzazione USB che ci è stata abbastanza vicino, chi doveva tutelarci è stato assente. Quello che io ho ripetuto tante volte è stato accertato che la morte di mio figlio è stata sicuramente un assassino e nulla toglie che tutte le altre morti per la mancanza di sicurezza sono degli assassini, non sono incidenti. Oltre alle morti tragiche sul lavoro ci sono quelle derivanti dalle malattie. In un modo o nell'altro la grande industria uccide. Certamente, infatti proprio per questo in questa manifestazione si ricordano anche Stefano e Nicola, due lavoratori morti per l'inquinamento a Taranto colpiti da malattie dovute a inquinamento. Quindi bisogna ricordare anche queste persone che comunque per il progresso, per il profitto comunque hanno dato la loro vita.